In città metropolitana questa mattina abbiamo ospitato un convegno dal titolo LabROM organizzato insieme all'Associazione 21 Luglio e al quale hanno partecipato varie amministrazioni locali portando qui le loro buone pratiche sul tema dell'inclusione dei cittadini e delle cittadine ROM del territorio metropolitano. Abbiamo provato a imparare una terminologia, un linguaggio comune per tutte e tutti e abbiamo provato a vedere quali sono stati gli approcci utilizzati a partire dal comune di Moncalieri. Abbiamo invece poi capito la attuale strategia di superamento del campo ROM del comune di Collegno. Tutto questo vuole essere un primo passo per andare verso un tavolo partecipato in cui si possano scambiare buone pratiche ed iniziative sulla tematica per affrontarla, come si diceva, dentro la sala a viso aperto. La città metropolitana ha provato a dare, chiaramente oltre ad organizzare questo spazio di discussione, a dare uno strumento pratico alle amministrazioni che consiste in un questionario che loro potranno compilare e che i dati del questionario verranno raccolti dalla città metropolitana per provare a, sulla base di numeri e di dati certi, mettere in piedi una strategia territoriale per occuparsi della questione. Siamo molto contenti che Città metropolitana abbia colto l'occasione per farci raccontare ancora una volta un'esperienza che è stata considerata un modello dal Senato della Repubblica che ci ha invitati due anni fa a raccontare la nostra esperienza e recentemente dall'Università Bocconi che ci ha premiato come città di valore pubblico. Il nostro progetto ha un titolo molto semplice, mai più Campi ROM. È iniziato nel 2015 con l'inizio dell'amministrazione guidata da Paolo Montagna Moncalieri. Ci siamo dati come obiettivo quello di non consentire più che nella nostra città i bambini crescessero nella sporcizia, vecchi e disabili non avessero le cure adeguate e le famiglie non fossero nelle condizioni di poter assolvere in autonomia alle loro responsabilità di genitori come tutte le altre famiglie della città. Se noi pensiamo al tema ROM ci sembrerà sempre impossibile da risolvere. Se invece noi ci avviciniamo alle persone, ce ne prendiamo cura una a una, sentiamo forte la responsabilità di occuparci di loro esattamente come ci occupiamo di tutti gli altri cittadini, allora tutto è possibile.